E' proprio lui, davvero, è pure ci assomiglia in maniera incredibile, non solo ci assomiglia ma si muove esattamente in quella maniera straordinaria. Una ragazza straordinaria? No, no, è proprio lui. Ah, proprio lui. Sì, sì, è il grande Gekko che torna per la felicità dei suoi fan. Michael Jackson! Michael Jackson, Lady Impasserella! The card door of Louisville, the stage is ready for access. The card door of Louisville, the stage is ready for access. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti